Una manifestazione di beneficenza per il canile di Vicenza. Tutto il ricavato è andato solo ed esclusivamente al canile. Tutte le artiste che hanno partecipato a questa manifestazione hanno partecipato gratuitamente. Hanno pienamente aderito alla tematica degli animali d'affezione. C'è stato un grandissimo afflusso di pubblico. Siamo veramente contenti che i vicentini sono venuti numerosissimi per dare una mano al sostentamento, per dare il riscaldamento anche questo inverno al canile di Vicenza. Devo dire che molte delle ragazze che hanno partecipato, tutte quante, hanno un loro cagnolino, un loro animale d'affezione a cui tengono moltissimo. Però ovviamente bisogna essere sempre vicini anche agli animali meno fortunati, quelli che vengono abbandonati. E vorrei fare un invito particolare perché faremo un'altra manifestazione, sempre per il canile di Vicenza e vorrei ampliare e quindi dare la possibilità a nuovi artisti di partecipare e venire con noi a questa bellissima manifestazione. Io ero presente, sono stata fiera di partecipare a un evento benefico come questo perché penso proprio che un artista partecipando a una cosa del genere per beneficenza si valorizza internamente sia la persona che tutto. E penso che tutte le artiste, anche quelle più famose, dovrebbero prendere insegnamento e partecipare anche loro appunto a questi eventi per beneficenza.